E' attualmente numero 174 del ranking mondiale. Lo scorso novembre ha vinto il Challenger di Champagne negli Stati Uniti. Simone Bolelli è nato a Bologna l'8 ottobre 1935 e ha esaurito in Coppa Davis nel 2007. Ha conquistato il titolo di doppio agli australiani in coppia con Fabio Fomini. La sua stessa settimana, sempre in doppio, ha vinto il primo ottobre 1934 e ha esaurito in Coppa Davis nel 2004. Attuali numero 40 del ranking mondiale incalierà il pari. Attuali numero 40 del ranking mondiale incalierà il pari. Pavitanius. Gioco Giussaro. Gioco Italia. 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 Giocco, Sassala, Giocco, Sassala, Giocco, Sassala, Giocco, Stani, Giocco, Sassala, 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 Giocco, Sassala Gioco, Italia Gioco, Italia 15-40 Sì! Allora! Autore dei sorrisi